Di registrazione video 480x800, questo è il massimo della risoluzione a cui LG L70 può arrivare Questo è uno zoom che si può fare sia con una barra sulla destra che con il pinch to zoom Però ovviamente già è bassa la risoluzione così la situazione diventa abbastanza inutile Cambio di luce, cambio di messa a fuoco Di nuovo verso l'infinito Registrazione 800x480 da LG L70